Come si fa la colla? Scopriamolo insieme. Ecco quello che serve per il nostro esperimento. In questo esperimento usiamo l'amido. Quali sono tra i seguenti vegetali in natura quelli che lo contengono in abbondanza? Patate, mais, riso, cipolle. Patate, mais e riso contengono amido e si possono usare per fare la colla. Adesso pesiamo 35 grammi di amido. Noi usiamo un becker di vetro. A casa potete usare un pentolino. Poi aggiungiamo 150 millilitri di acqua, qualche goccia di colorante alimentare e ora mescoliamo bene con il mestolo. Passiamo il becker a un adulto che ci aiuterà a preparare la nostra colla. Posizioniamoci sopra il becker e continuiamo a mescolare. Pian piano il composto inizierà a diventare denso. Mescoliamo finché non si trasforma in una gelatina appiccicosa. La nostra colla è pronta! Aspettiamo qualche minuto che la colla si raffreddi per poterla usare. Avete provato a toccarla? E' appiccicosa! Di cosa è fatta la colla? Acqua più amido uguale colla. Un po' d'acqua è dell'amido e il gioco è fatto! Per provare a casa usate la fecola di patate. Il risultato sarà garantito. Che bella scoperta!